Beh, ero contento all'idea di un evento Dragon Slayer, però poi mi sono ricordato che poteva anche essere un evento non farmabile. Infatti è un evento punito. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch, puni-puni, episodio dove si fa cosa? Si slotta e basta perché l'evento fa schifo già di per sé. Non è che l'evento fa schifo, ma è il minigioco a fare schifo, cioè o metti slingshot, fionda, wajiki, chiamatela come volete, e preferirei fionda e non biglie perché sono due eventi diversi, fionda, puoi trascinare e mirare ed è molto più facile, invece biglie, devi trascinare il dito e il touch fa come gli pare. Ad ogni modo, slottiamo e vediamo quello che ci capita. Let's, let's go. Tra l'altro hanno messo anche una specie di testo vicino quando slotti ora, non so bene a che serva, ma non è che mi interessa più di tanto. Prima slottata nulla, ovviamente, non poteva capitare qualcosa di bello. Ah, tra le altre cose sto giocando con il secondo account. Uff. Oh, ah, ma questo è dell'evento. Ah, sì, sì. Magari vi starete chiedendo perché il secondo account. Magari un giorno ve lo spiego, però oggi non è il caso. Dunque, andiamo un po'. Uh, niente ancora. Potrebbe uscire comunque uno Z, eh. Mi pare che gli Z non fanno più l'animazione con i Whisper, con le trombe e nuvolette. Mi pare che lo fanno solo per gli ZZ e i Triple Z, magari. Potrei sbagliarmi, ma almeno le ultime slottate che ho fatto era così. No, è un Jibanyan Dragon Slayer, ma non è per questo evento, no. Infatti lui compare... Ah, un'altra principessina lì. Ok. Penso che arriverò... ...a 150, se non trovo proprio nulla. Vorrei, insomma, slottare qualcosina di interessante per questo account! Vai! Allora, questa me la voglio proprio godere, liscia, liscia, godalizia. Chi ci dà? Chi ci dà? Oh. Il White Dragon. Bello quello spadone. Inutile, ma bello. Il Drago Bianco. Occhi gialli, a quanto pare. Vabbè, i draghi sono le mie creature mitologiche preferite, insieme alle Fenici. Ed era questo il Triple Z. Vediamo di provare a prendere qualcos'altro. L'unico problema di questo account è che non ho nulla, a parte i punti che ho farmato. Aspetta, però, no. Forse il Light... No, no, il Triple Z sono Black Dragon e White Dragon. Quindi, Drago Bianco e Drago Nero sono entrambi giovani, come dice la wiki qui. Wiki. Quello che è. Dark Dragon King. Ci sono un sacco di nomi interessanti che vorrei di Yo-Kai e poi che vorrei trovare. Tra le altre cose penso che slotterò anche prima di finire l'evento, perché... Qua farmare... A meno che non hai Yo-Kai interessanti per sconfiggere i boss. Non per forza quelli dell'evento, eh. Però... Potresti farmare bene. Si potrebbe farmare bene. Oh! Ah! Kyusela? Eeeh... Kyusela? Light Wings. Eeeh... Penso sia giusto anche se c'è solo lei di Anako. Ok. E lei? Comunque no, per lo Z se è dell'evento lo fa. Oh, io mi sto basando su quello che ho visto fino a stamattina. Stamattina ho fatto qualche multi per vedere chi usciva. Mi sono usciti due Z, però non ha fatto l'animazione Whisper. Non so perché. Ah, forse è solo la prima volta che li incontri. Ma può essere. Niente. Niente di niente. Ok, dai. Diciamo che questa è la penultima. Diciamo che è la penultima, se non capita niente. Eh, che beh. Allora, allora. Non mi piace. Ci sono un sacco di gioca che vorrei trovare. Ci sono tanti nomi belli. Ah, ok. Ancora la principessa. Ma guarda, sai che ti dico? Un'altra giusto per regolare i conti col karma. Diciamo cose a caso. Eh, allora. E allora il karma mi... Dai, su però. No. Mi posso farmare volendo. Ok. Questa è l'ultima per davvero. Regoliamo i conti. E... E è nuovo. Doppia Z, doppia Z, doppia Z. Dammi un doppia Z. Eh, sì, sì. Questo è il... Il Light Dragon. Perché c'è Icari nel nome. Perfetto. Mi piace. Non so cosa fanno perché il sito dove mi informo io... Uno è esploso. Perché mi sono informato io, ovviamente. E un altro che ancora non esplode perché... Boh. Buon per lui. Però, amici miei, evento punito. Io piango. Lacrime amare. Diciamo che comunque sia... È giusto per lo show. Non è mai stata la mia intenzione. Puni puni farlo. Diventare uno dei punti principali del canale. Ma si fa, insomma, tutto quanto per lo show. Mi piace, insomma, fare le multi. Incazzarmi con le multi. Allora, in ogni modo, il video termina qui. Come sempre, puni puni, ormai sono solo multi. Non mi interessa più portare video particolari di puni puni. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. In descrizione tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo, ovviamente, domani. Bye bye.